Domenica 28 ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, Piazza Sabato accoglierà la giornata di prevenzione oncologica. Diamoci una mano contro i tumori. L'iniziativa, che garantisce visite specialistiche gratuite di tipo oncologico, senologico ed urologico, porta alla firma del comune di Ponte Cagnano-Faiano, che ha avviato una proficua collaborazione con l'associazione Un Hospice per Eboli e amici dell'ospedale Manessantissima Dolorata Onlus, preseduta da Armando De Martino e con l'associazione Cittadini Uniti, retta da Alessia Affinito. Partner dell'evento sono l'associazione Comunità Libertaria di Clown e Sognatori Pratici, con l'ambulatorio di Coccole e l'AUS, ospita l'associazione Onlus. Nel corso della giornata si potrà partecipare al concorso con la solidarietà Si vince sempre, attraverso il quale saranno messi in palio ben tre buoni vacanza. Il sindaco Giuseppe Lanzara ha sottolineato Benvengano tutte le iniziative a tutela della salute dei nostri concittadini, a cui chiediamo di partecipare numerosi per soffrire della consulenza e della competenza di specialisti posti a loro completa disposizione. La prevenzione, e non solo in campo medico, è la migliore arma per vincere le battaglie che la vita ci riserva. Usiamola!